Un accordo che è stato stipulato tra il Tribunale Italiani e l'ABI, l'Associazione Bancaria Italiana, consente oggi rispetto al passato di poter finanziare l'intervento in asta e l'acquisizione di immobile. Questo accordo prevede che gli istituti di credito che hanno aderito, ma sono la magna pars del panorama bancario italiano, possano stipulare per i partecipanti in asta adeguati mutui che sono chiaramente né più né meno come gli stessi mutui che vengono erogati per il mercato libero. Questo accordo consente la partecipazione anche a quella fetta di acquirenti che fino a ieri erano rimasti esclusi, quando la normativa non consentiva questo tipo di finanziamento e quindi si doveva necessariamente ricorrere a propria liquidità per poter acquistare un immobile all'asta. Grazie per la visione!